buonasera io sono gino il fornaio cosa ho fatto nel film il fornaio cornuto perché dovete andare a vederlo perché è un bel film e cornetto e cornetto e cornetto però perché l'hai fatto perché l'ho fatto perché un amico mai chiesto di fare un film e l'avevi mai fatto no si ma guarda a me no non l'avevo mai fatto perché bisogna andare a vederlo perché è un bel film e basta c'è anche un sacco di topa ma topa scusa topa è milanese se già mal toscana c'è un film passera io direi passera quello poi di tratto la tua moglie si dice cicala comunque vabbè è lo stesso che c'è un sacco di cicala dunque certo che l'aspetto al cinema a chi quando a chi aspetti l'autobus a chi aspetta chi aspetta loro sono loro 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 salutiamo vai ciao a